ok ragazzi come creare il mantello del cacciato il mantello del cacciato lo crei con due ossa e due cosce quindi si uccidono due animali anche piccoli non necessariamente rupi andiamo sulla creazione e ci ha creato il mantello che ovviamente dobbiamo occupaggiare la missione sarà bella completata bella bella